Attenzione sono in via Gozzer, stanno per spuntare nello stadio, entrano nello stadio, gran finale della prima batteria della G3 Maschide, Santiago Bembola e Francesco Coletta, Bembola a fare un'andatura, Coletta a ruota, sempre Bembola avanti, but attenzione a Coletta che prova ad uscire, Prova ad uscire Coletta, attenzione Francesco Coletta, giusto? Del pedale teatre, tu devi dirmi esattamente da dove arrivi Dall'Abruzzo Dall'Abruzzo, giusto? Quante ore di viaggio vi siete fatti per venire qui a Borgo? Ma guarda, di preciso non lo so, sicuramente devastante il viaggio, però ne valse la pena Allora, devastante il viaggio, adesso devi metterti vicino al microfono e devi dirmi quanto sei contento da 1 a 10, ma devi urlarmelo forte Mille Dimmelo più forte, quanto sei contento? Mille A chi ridedicare questa vittoria? Guarda, principalmente a mia madre, perché mi accompagno sempre a ogni gara che faccio E' veramente... Come si chiama tua mamma? Sara Ismail Eh, dai che così sicuramente si commuove sentendo la tua voce Poi? E' tutti i miei familiari, nonni, papà, però principalmente al primo posto mia madre Oh, a me i mammoni piacciono, eh, lo ero anch'io, piacciono molto Complimenti, grazie per essere arrivati dall'Abruzzo, eh, grazie davvero, viene la premiazione